Ogni storia importante ha i propri ingredienti unici. La passione che ci metti ogni giorno. Un'attenzione particolare. La semplicità di un gesto quotidiano. Che diventa la gioia di un sorriso. Questo ti rende sicura di ogni risultato. Poi c'è un saper fare unico. Uno stile inconfondibile. La tua personalità creativa. Che diventano cura di ogni dettaglio. E ti rendono diversa. Coinvolgente. Ogni giorno. Questa è la tua ricetta della vita. Comprimetti alla buona. Lagostina. Il piacere italiano di fare buona cucina.